buongiorno no arrivederci si che tempi ciao volevo tagliarmi i capelli va bene grazie arrivederci gasp se n'è andato senza pagare devo chiamare la bollizia boh non rispondono salve vorrei che lei mi accorciasse il pelico in testa in cambio di denaro affare fatto wow con il denaro potrà finalmente comprare un canerino allora come li vuole vorrei che me li accorciasse più lunghi allora avrà bisogno di un estensione come le sembra molto grazioso ma io avevo un'idea più così le faccio vedere una foto oh ma questo è il classico look rough cowboy bearback mountain ce la può fare ma certo ora oh no è finito il mio turno devo andare ciao cosa ma salve che cosa ordina cosa significa ordinazione boh un caffè un caffè certo ora glielo faccio oh no è finito il mio turno glieli taglio da qui va bene ecco il caffè è bollente è bollente allora dobbiamo chiamare la polizia boh non rispondono ora basta me ne vado ma no guardi ora le taglio i capelli subito vabbè ecco un cappuccino perché urla era un cappuccino freddo ma io sono intollerante al lattosio quindi il toast come glielo faccio lo prego basta e ora l'ultima spuntatina con questa katana allora come le sembra è perfetto il conto è di 100 bitcoin posso pagare con un buono pasto certo ecco un pasto buono robert downy senior scendi subito da lì robert downy senior scendi subito